Tutto pronto per il faccia a faccia fra i candidati in vista del secondo turno elettorale per la presidenza francese questa domenica. Alle 21 su France 2 prenderà il via il dibattito fiume due ore e mezzo di domande a cui Emmanuel Macron e Marine Le Pen si sfideranno a colpi di retorica proprio come cinque anni fa. Avremo solo primi piani, non possiamo fare zoom nei grandi movimenti o panoramiche. In un dibattito elettorale si deve dare ritmo solo con i campi di inquadratura per non annoiare. Ogni dettaglio è frutto di un'intensa negoziazione con i team dei candidati. Potere d'acquisto, sicurezza, scenario internazionale, ambiente sono alcuni dei temi su cui i candidati si confronteranno nella scia dei duelli più celebri come Mitran-Giskar o Mitran-Cirac. Il divario tra i due rivali sembra consolidato, 54 a 45% in favore di Emmanuel Macron secondo gli ultimi sondaggi, ma è alta la percentuale di indecisi per cui il confronto potrebbe essere determinante.